La paura, la gioia, il dolore, non sono tangibili, ma hanno un odore che ci si attacca addosso, sono come l'orso che arriva al miele, la iena sulla preda, le azioni arrivano su di noi, che siamo niente rispetto all'universo, niente in confronto ai suoi milioni di anni, eppure viviamo come se fossimo unici e potessimo esistere per sempre. Ci adeguiamo alla società che ci circonda, senza pensare che al di fuori di essa ce ne sono altre milioni che non conosciamo. Intanto il tempo passa. Non abbiamo radici, né ali. Possiamo scegliere dove andare. Se restare o tornare. Ehm, madre, ti ho aspettato a lungo. Caracal Edizioni. Nelle migliori librerie. Ehm, madre, ti ho aspettato a lungo. Caracal Edizioni. Nelle migliori librerie. Ehm, madre, ti ho aspettato a lungo. Caracal Edizioni. Nelle migliori librerie. Ehm, madre, ti ho aspettato a lungo. Caracal Edizioni. Nelle migliori librerie.